Ben trovati gentili telespettatori dal telegiornale delle Marche di TVRS. Non ci sono purtroppo notizie confortanti sul fronte della pandemia. Nelle ultime 24 ore infatti c'è stata una vera e propria impennata di contagi nella nostra regione ben 162 contro i 67 di 54 dei giorni scorsi. Anche il tasso di incidenza ogni 100.000 abitanti balza a 45,35 con il tasso di positività al 10%. La distribuzione territoriale è piuttosto uniforme. Se pensiamo ai 41 casi nella provincia di Pesaro Urbino, ai 39 nell'Anconetano, ai 34 nella provincia di Macerata, mentre va un po' meglio nel sud delle Marche con 20 neopositivi nella provincia di Ascoli Piceno e 15 nel Fermano. Anche i ricoveri aumentano passando da 16 a 21 con 4 degenti nelle terapie intensive e 3 nelle semi-intensive. Da questo punto di vista siamo ancora fortunatamente lontani da cifre allarmistiche, ma la diffusione della variante Delta ed un indiscutibile allentamento delle misure di distanziamento stanno provocando questa nuova recrudescenza del fenomeno. Chiaramente c'è anche un minimo di apprezzione per la ripresa delle lezioni e si pensa a tamponi salivari e vaccinazioni senza ago per scongiurare un altro anno con la didattica a distanza. E cambiamo ora argomento con il primo servizio di oggi, giornata da ricordare per l'Università di Camerino, con l'inaugurazione del nuovo padiglione destinato alla chimica e alla ricerca scientifica alla presenza del ministro Maria Cristina Messa, il servizio di Manoli Tascocco. Il governo è vicino alla città di Camerino. L'attenzione è l'aspetto più importante che un governo deve porre alle varie aree del paese tenendo presente quali sono le esigenze e accompagnando i territori a realizzare i progetti più importanti. Lo ha detto il ministro dell'Università della Ricerca Maria Cristina Messa, oggi a Camerino uno dei centri più colpiti dal terremoto del 2016, in occasione dell'inaugurazione del Chemistry Interdisciplinary Project, CIP, il nuovo padiglione destinato alla chimica e alla ricerca scientifica. Io credo che le università abbiano un ruolo, oltre a quello primario di insegnare e di fare ricerca, anche di punto di riferimento dei territori. E sicuramente questo è l'esempio, forse lo porto sempre in giro per l'Italia perché il Camerino è l'esempio più lampante di questo. Ma lo hanno proprio perché si occupano del futuro e dei giovani e di attraverso la ricerca portare sempre dei miglioramenti per l'uomo, perché poi alla fin fine la ricerca è fatta non solo per curiosità, ma anche per migliorare le condizioni di ciascuno di noi. CIP non è solo un acronimo, ma anche la parola che ricorda la forma dell'edificio, innovativo, costruito in tempi quasi da record, come ha detto il magnifico rettore Pettinari, realizzando un sogno e mantenendo una promessa. Un sogno realizzato, una promessa mantenuta, abbiamo cercato di rispondere nei tempi che ci eravamo dati. Credo che i vostri occhi hanno potuto vedere la qualità delle strutture, delle finiture, la sicurezza della struttura, tutta fatta con un tempo veramente breve, con grande professionalità da parte di tutti i nostri architetti, ingegneri che ringrazio, di tutto lo staff che coordina la governance e devo essere sincero, c'è grande orgoglio per questa giornata, c'è grande felicità per questa giornata. Un edificio realizzato con innovative tecniche di costruzione per garantirne la sicurezza in caso di sisma, attraverso un progetto interamente a cura dei docenti della Scuola di Architettura e Design di Unicam, il progetto più grande, nato immediatamente dopo gli eventi sismici del 2016. Ed apriamo ora la pagina destinata alla cronaca, un nuovo antena ha perso la vita schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando in località Colle del Giglio, nel territorio comunale di Ripa Tranzone. Al momento dell'arrivo dei soccorritori e di una squadra, dei vigili del fuoco, le condizioni dell'uomo sono subito apparse disperate ed infatti l'anziano è deceduto mentre si stava cercando di rianimarlo. Circa un migliaio tra capi di abbigliamento ed articoli considerati non sicuri in quanto sprovvisti delle necessarie autorizzazioni sono stati sequestrati dai finanzieri di Ascoli Piceno nell'ambito delle attività di controllo che si sono espletate sia nel capoluogo ma anche a San Benedetto del Tronto ed in altre località del litorale. I servizi, si legge in una nota, verranno riproposti regolarmente durante tutta la stagione estiva. Due bocconi avvelenati sono stati ritrovati a Monte Rosso di Sassoferrato dai carabinieri forestali, probabilmente erano destinate ai cani e dai gatti dei residenti della zona. I militari sono stati allertati da un cittadino ed hanno appurato che si trattava di esche molto pericolose ed in grado di uccidere gli animali. L'amministrazione comunale si è occupata di tabellare l'area a scopo precauzionale, sono nel frattempo partite le indagini per risalire al responsabile che rischia la denuncia all'autorità giudiziaria con la pena in caso di condanna della reclusione sino a due anni. Locali chiusi ed ammende dopo i controlli disposti dal prefetto di Pesaro Urbino nello scorso fine settimana sarebbero state violate le norme di sicurezza anti-covid. Dobbiamo restituire dignità al comparto e il grido di allarme lanciato da Confcommercio. Sentiamo comunque i dettagli nel servizio di Lino Balestra. Cinque locali chiusi e 400 euro di multa ad ognuno di loro sono il risultato dei controlli disposti dal prefetto di Pesaro Urbino sia sulla costa che nell'entroterra. Venerdì sera della scorsa settimana, cena dopo cena alla Fiele per i locali con licenza di pubblico spettacolo della zona del Lido di Fano, Barretto, Arzilabic e Chalet del Mar. Dai controlli delle forze dell'ordine sembrerebbero esserci state grosse violazioni delle norme di sicurezza anti-covid in materia di assembramenti. Va detto che questi locali sono all'aperto con ampi spazi dove diventa problematica la gestione dei flussi e dei clienti e il loro posizionamento. Una situazione che ha fatto infuriare anche l'associazione di categoria, la SILV della Confcommercio. Per le imprese del pubblico spettacolo questo è l'ennesimo rospo da ingoiare perché prima sono state illuse e poi sono state bastonate. perché neanche con il Green Pass gli è stato permesso di poter riaprire. Logicamente si aspettavano tutt'altro dal governo, potevano sperare di riaprire con tutte le norme di sicurezza invece l'ennesima batosta. Sembra quasi un pregiudizio verso un settore che per la nostra economia comunque è molto importante per tutta Italia. Tra l'altro sono stati controllati e vengono controllati costantemente quei locali che poi alla fine potrebbe sembrare un controsenso ma sono quelli che hanno poi l'autorizzazione di pubblico spettacolo. Quindi sembra quasi assurda questa cosa visto che poi in giro ovunque vediamo assembramenti di tutti i generi e di tutti i tipi. Quindi noi cosa chiediamo? Chiediamo di far riaprire questi locali in sicurezza è importante ridare dignità a questo settore seguendo tutte le strade possibili tutte le strade con norme per la sicurezza anti-covid, anti-assembramento quindi diciamo tutto ma sicuramente farli ripartire perché non ce la fanno più quindi si crea tra l'altro una concorrenza smisurata uno con l'altro per poter portare a casa alla fine il pane quotidiano perché comunque ricordiamoci che sono imprenditori quindi noi esortiamo tutti veramente a vaccinarsi per noi stessi e per gli altri e per il nostro futuro perché a livello economico questo deve essere il punto di ripartenza e quindi cerchiamo di far riaprire tutti i settori che sono in difficoltà per ripartire per il nostro paese quindi esortiamo, ribadisco, a vaccinarsi Federico, allora due giorni di chiusura una multa il vostro è un settore che non ha pace come vi sentite? Ma ci sentiamo come la giornata di oggi triste guarda siamo, sì, è un settore penalizzato perché comunque noi fondiamo il nostro lavoro sull'assembramento quindi chiaramente ci colpisce in prima linea e questo fatto che è successo nel weekend secondo me a mio parere abbastanza esagerato perché avrei preferito che mi dicessero guarda state facendo un lavoro che non si può fare come primo impatto intendo state facendo un lavoro che non si può fare e la prossima volta che torniamo vi facciamo chiudere no invece chiudere diretto perché comunque da anni noi viviamo nel terrore delle forze dell'ordine quello che dovrebbe essere diciamo un nostro partner quindi un aiuto un aiuto per lavorare meglio invece noi viviamo con il timore dei controlli con il timore di qualcosa che non va che trovano qualcosa che non va effettivamente in questo weekend le cose erano diciamo molto borderline tra il bene e il male diciamo certo è che un'altra estate così difficile sono batoste grosse insomma una la reggi due forse ma alla terza forse non ci sia rio questa che è peggio dell'anno scorso non me l'aspettavo proprio assolutamente ancora cronaca perché i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco dopo le 11 nella zona della grotta azzurra d'Ancona dopo aver ricevuto una segnalazione relativa ad una persona rimasta infortunata dopo una caduta sul posto si sono recati sia la squadra della sezione navale che i sommozzatori con un gommone nel quale c'era a bordo il personale del 118 la donna è stata trasportata al porto dove ad attenderla c'era un'ambulanza per l'immediato ricovero al pronto soccorso un giovane di 25 anni di corridonia peraltro già nota alle forze dell'ordine è finito nei guai sabato sera dopo un tamponamento avvenuto in via Giglia a Macerata sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale in servizio nei pressi della vicina Arena Sferisterio che sono stati insultati dal ragazzo in stato di ebrezza alcolica che ha anche preso a calci e pugni un'insegna pubblicitaria è stato quindi denunciato anche con le accuse di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale sono stati presentati in regioni i progetti giudicati finanziabili nell'ambito del PINQUA programma nazionale della qualità dell'abitare vediamo è stato presentato presso la sala Raffaello della regione Marche il progetto PINQUA che prevede l'innovazione della qualità dell'abitare e la riqualificazione di luoghi periferici e aree dismesse la regione Marche ha reso accessibili questi fondi ai piccoli comuni con una popolazione inferiore a 60.000 abitanti che si sono uniti e hanno fatto rete creando sinergie territoriali che gli hanno permesso di accedere ai finanziamenti sono stati tre i progetti presentati e ammessi finora in seguito all'istruttoria è stato riconosciuto un importo complessivo che sfiora i 45 milioni i comuni che hanno aderito sono Iesi Castelbellino Monte Roberto e Maiolati Spontini Falconara Marittima e Senigallia Osimo Petriano Cagli Sassoferrato Montelupone Muccia Visso Palmiano Monsampolo del Tronto Un'iniziativa molto importante Assessore che mi consenta dà veramente grandi possibilità ai comuni dà grandissime possibilità ai comuni di riqualificare tutte diciamo una serie di aree in qualche modo degradate dismesse non più utilizzate dà modo di riqualificare e di connettere tra loro zone diverse magari oggi che sono hanno la ferrovia in mezzo faccio per dire potrebbero utilizzare dei ponti sottopassi eccetera per ricollegare i luoghi ma soprattutto incentivano diciamo così anche le varie attività la mobilità che c'è sul territorio quindi si parla anche di trasporti pubblici di mobilità diciamo così sostenibile comunque sia è un bando che va incontro diciamo così alla possibilità alla qualità della vita dei cittadini per poterla migliorare all'interno delle città dove già vivono evitando il consumo di suolo quindi riqualificando quanto c'è già sul territorio magari appunto di inutilizzato o comunque da riconvertire o comunque da migliorare quello che è stato il ruolo molto importante della regione Marche di cui sinceramente vado molto fiero è questo questo bando era mirato a livello nazionale a tutti i comuni capoluoghi di provincia e alle città sopra i comuni sopra i 60.000 abitanti a noi non è sembrato giusto che la miriade di comuni diffusi sul territorio marchigiano che sono spesso piccoli comuni o comunque sotto i 60.000 abitanti non potessero partecipare a questo tipo di bandi e a questo tipo di attività allora abbiamo deliberato di sostenere come regione Marche quindi di presentare come regione Marche la progettualità che ci veniva proposta da dei pool di comuni che si associavano tra loro quindi sono buone possibilità ma io lo do per scontate di finanziamento di 15 milioni di euro per ognuno di questi progetti quindi qui andiamo veramente a riqualificare fortemente queste parti importanti del nostro territorio e non sono come si diceva prima solo le città più importanti ma anche i comuni minori tra virgolette più piccoli ecco questa è stata l'azione che ho voluto portare avanti come assessorato all'urbanistica e mi fa molto piacere poter dire che sta andando a buon fine voi siete aggregati con Senigallia con questo progetto come vi riguarda direttamente che programmi avete di riqualificazione della vostra città sicuramente questa attività che faremo sarà volta a realizzare un incremento della coesione sociale ricucendo aree marginali con quelle di maggior pregio abitativo quindi un'operazione diciamo che valorizza le periferie rendendo opportunità e creando opportunità di aggregazione culturale sociale riqualificando l'abitato nella fattispecie ad esempio interverremo sull'ex quadrarialzo a Villanova che era una struttura utilizzata dalla ferrovia che risale ai primi del novecento ancora un altro abitato in zona fiumesino ugualmente dello stesso periodo storico e la funzionalità cambierà totalmente e le renderà delle realtà ricche di potenzialità sia culturali che sociali ma per il comune di Senigallia questo è un momento molto importante di questo ringrazio la regione perché ci permette di recuperare spazi importanti attraverso una rigenerazione come ad esempio Palazzo Gerardi che è al centro della città e che per tantissimo tempo è stata sede del liceo attraverso un aiuto anche attraverso una collaborazione con l'università degli studi potrà avere una destinazione importante e anche il discorso del lungomare una sistemazione per la città Altri sette occhi elettronici insieme a quattro punti luce monitoreranno i giardini della Rocca Malatestiana a Fano La scelta dell'amministrazione comunale va nella direzione di contrastare ed evitare che si ripetano gli eventi di cronaca avvenuti nella suddetta area nell'ultimo periodo L'assessore all'ambiente Barbara Brunori ha anche annunciato i prossimi luoghi che saranno monitorati dalle telecamere Le prevederemo ha detto alla Darsena Borghesi i cui lavori di intervento sono in fase di ultimazione nel sottopasso ed in tutte quelle aree che andremo a riqualificare E restiamo a Fano con una breve di cronaca i carabinieri hanno arrestato il presunto autore di una rapina compiuta in pieno centro il 22 luglio scorso si tratta di un nigeriano di 27 anni in Italia senza fissa dimora che avrebbe avvicinato di notte una 62enne di Chiaravalle sottraendogli dopo un'aggressione il portafoglio con 40 euro documenti personali e la carta Bancomat Sabato il giovane individuato grazie proprio alle immagini delle telecamere di videosorveglianza veniva intercettato in via Montevecchio e dopo vari tentativi di fuga veniva finalmente bloccato in via dell'arco di Augusto ed andiamo ora a San Benedetto dove nei giorni scorsi è stato consegnato il premio Truentum alla memoria di Gabriele Cavezzi personaggio eclettico e molto impegnato soprattutto nella politica e nello sport vediamo assegnare un premio alla memoria di un cittadino è a volte un atto scontato ma così non è stato domenica 25 luglio per l'assegnazione del premio Truentum a Gabriele Cavezzi presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto personaggio eclettico che ha rivestito molti ruoli di eccellenza ma sempre con umiltà e dedizione cercando di tenere sempre alto il nome di San Benedetto del Tronto Gabriele è morto il 22 febbraio di quest'anno a 87 anni è stato consigliere comunale ed assessore alle finanze pubblico funzionario della sanità locale docente presso la scuola per impermieri e direttore amministrativo del servizio igiene e sanità pubblica studioso di storia locale ed uno dei massimi esperti delle migrazioni dei san benedettesi nel mondo istitui profondi legami culturali con la città di Spalato dove fu insegnato di un importante riconoscimento la targa d'oro stabilì anche relazioni intense con la città di Mar del Plata e Chicago importanti contributi nel corso della sua vita ed importanti convegni scientifici in Italia ed all'estero oltre che fondatore della rivista Cimbas che ha divulgato la storia della civiltà marinara picena da ultimo ma non per importanza per aver ricostituito l'atletica a San Benedetto del Tronto avviando a questo sport fin dagli anni 70 molti giovani che poi si sono distinti anche in maglia azzurra molti gli interventi degli ospiti per segnalare le qualità di Gabriele e non possiamo non citare le emozioni di Giuseppe Merlini responsabile dell'ufficio storico comunale del sindaco della città Pasqualino Piunti dell'ex assessore regionale Gino Trolli del presidente dell'atletica con l'Escola Vinicio Ruggeri che ha ricordato il rapporto umano e la passione di Gabriele per la federazione dell'atletica il messaggio video fatto per venire alla società dal presidente nazionale Stefano Mei ha evidenziato la stima e l'amicizia oltre che con la famiglia Cavezzi con tutta l'atletica locale alla consegna dell'ambito onorificenza era presente tutta la famiglia Cavezzi dalla moglie di Gabriele la signora Giuseppina attornata dai tre figli Attilio Stefano e Paola la serata è stata arricchita da momenti di spettacolo grazie alla partecipazione di valenti artisti come il chitarrista Cristiano Corradetti la pianista Patrizia Gentili la soprano Manuela Torresi e Lito Fontana che ha eseguito pezzi al trombone Al termine dell'incontro del tavolo politico strategico le organizzazioni sindacali agricole riconoscendo lo sforzo profuso dall'amministrazione regionale per semplificare e migliorare le procedure per accedere al contributo del pacchetto giovani del programma di sviluppo rurale chiedono di posticipare l'uscita del bando già prevista per luglio per permettere loro di svolgere ulteriori approfondimenti in merito a quanto già proposto dall'autorità di gestione del PSR circa la valorizzazione dei progetti con alto valore di innovatività su questo le organizzazioni si rendono disponibili per ulteriori confronti già a partire dalla prossima settimana l'amministrazione regionale accorda questa richiesta ipotizzando la scadenza delle domande di accesso al contributo della misura 6.2 del PSR a dicembre una festa patronale molto particolare a Fermignano per la presenza del neocardinale Augusto Paolo Lo Iudice legatissimo alla cittadina del Monte Feltro vediamo promessa mantenuta la aveva annunciato subito dopo la sua creazione a cardinale da parte di Papa Francesco lo scorso anno lunedì sera Monsignor Augusto Paolo Lo Iudice ha ufficiato a Fermignano la Santa Messa in onore di Santa Veneranda patrona del paese nato e cresciuto a Roma Don Paolo come tutti ancora lo chiamano nonostante il ruolo che ora ricopre fino ai 18 anni ha passato ogni estate della propria vita nella cittadina del Monte Feltro luogo in cui si sono conosciuti Antonio e Olga suo padre e sua madre che è originaria del luogo nominato arcivescovo metropolita di Siena colle di Valdelsa Montalcino nel 2019 Monsignor Lo Iudice è poi diventato il quarto cardinale più giovane del mondo nel 2020 ha soli 56 anni e i fermignanesi lo hanno riabbracciato in questa occasione particolare al termine della funzione un riconoscimento speciale l'amministrazione comunale gli ha conferito la cittadinanza onoraria è stata l'occasione giusta per celebrare il cardinale Lo Iudice che ha radici fermignanesi e ha passato tutta la sua infanzia qui è un onore essere rappresentati da lui ha spiegato il sindaco Emanuele Feduzzi abbiamo vissuto una giornata molto bella di vera festa perché dedicata sia alla nostra patrona sia ai nostri studenti meritevoli che hanno appena concluso una parte del proprio percorso di vita a causa del covid anche quest'anno non si è potuta svolgere alcuna processione con la statua di Santa Veneranda ma la festa non è mancata come pure un pizzico di commozione siamo allo sport capriamo con le Olimpiadi si è infranto il sogno di medaglia per Camila Giorgi la tennista di origini maceratesi infatti è stata battuta nei quarti di finale del torneo di singolare femminile dall'Ucraina Svitolina numero 6 al mondo e quarta testa di serie in 276464 in un'ora e 31 minuti per il nuotatore monteprandonese di Cole invece il quinto posto con la nazionale azzura nella staffetta 4x200 stile libero dietro Gran Bretagna Russia ed Australia che quindi salgono sul podio e gli Stati Uniti terminati in quarta posizione e vediamo ora le previsioni meteo per giovedì 29 luglio ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo ancora una circolazione di bassa pressione influenza al tempo sull'Europa centro-settentrionale aria fresca con delle piogge specie tra Scandinavia e isole britanniche sull'Italia invece anticiclone nord-africano con aria bollente dall'entroterra sariano verso il sud anche nei prossimi giorni valori prossimi ai 40-42 gradi in alcune zone interne la situazione quindi vede il bel tempo nel corso di giovedì sulle nostre regioni ma attenzione perché in serata qualche isolato temporale non mancherà sulle zone montuose nei dettagli andiamo a vedere la previsione sarà una bella giornata su tutte le nostre regioni solo dei temporali di calore in serata sulle Alpi è bello ma il caldo al sud ancora massimo oltre i 35 gradi toccheremo i 40 gradi sull'entroterra di Sicilia Calabria e Puglia dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo e siamo al calcio la San Benedettese è fuori dalla serie C questa è la realtà attuale anche se resta la tenue speranza del ricorso al Tar ed eventualmente in ultima istanza al Consiglio di Stato il sindaco della città Piunti cerca intanto di muoversi per far ripartire la squadra o dall'eccellenza o dalla serie D ed in quest'ultimo caso occorre sborsare immediatamente 300.000 euro sono già stati avviati contatti con imprenditori locali per creare finalmente un consorzio che si assumi la responsabilità di guidare una nuova società che dia garanzie e soprattutto continuità dopo le recenti peripezie il Castelfidardo ha annunciato l'ingaggio del centrocampista 24enne Alessandro Gelsi che nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Porto Sant'Elpidio collezionando 19 presenze cresciuto nelle giovanili del Pescara ha esordito in serie D nel 2015 con la maglia del Giulianova per poi giocare nell'eccellenza abruzzese con le casacche di San Buceto e Torrese e con questo è tutto io vi ringrazio per la cortesa attenzione e vi do appuntamento a domani e vi do appuntamento a domani e vi do appuntamento